Siamo ai piedi delle mura della fortezza di Giovanni Battista, più comunemente nota come fortezza da basso a Firenze. Voluta da Alessandro de' Medici nella prima metà del XVI secolo, domina questa zona non lontano dalla stazione di Santa Maria Novella. Trevi sta lavorando per preservarne le mura. Entriamo dentro e scopriamo come. Sono qui con Luigi, Project Manager Trevi S.P.A. Luigi, le attività che Trevi sta portando avanti nei cantieri di Cittadella e Fortezza sono un po' diverse rispetto ad altre che sta facendo, ad esempio a Belfiore. È vero? Sì Alessandro, le nostre attività qui hanno uno scopo completamente differente. A Fortezza infatti stiamo eseguendo delle iniezioni cementizie e propedeutiche alle attività di Compensation Grouting. La fortezza da basso infatti verrà sotto attraversata dallo scavo meccanizzato alle due TBM che asporteranno un grande volume di terreno per lo scavo appunto delle due nuove gallerie di linea. Le iniezioni verranno eseguite tra le fondazioni delle mura e le gallerie in corso di realizzazione, contrastando in questo modo i potenziali scedimenti registrati da tutta la strumentazione installati in superficie. Nel cantiere di Cittadella succede la stessa cosa? A Cittadella la situazione è simile ma non perfettamente uguale. In questo caso stiamo realizzando dei consolidamenti preventivi al passaggio alle TBM a tutela dei fabbricati esistenti. Perfetto, è sempre molto chiaro Luigi. Ti ringrazio e buon lavoro. Grazie Sano. Alla prossima. Ciao.